... Incidente nella mattinata di martedì 3 dicembre, poco prima delle 7.30, sulla strada provinciale 565, Pedemontana, tra Castellamonte e Salassa. Coinvolte due vetture, una Fiat Punto e una Mercedes A180. La Punto si è ribaltata a lato carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea e Riva Rolo, due ambulanze della Croce Rossa di Castellamonte e i carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea. Disagi per la viabilità, in quanto il tratto di Pedemontana è rimasto bloccato per permettere l'operazione di soccorso. Ferito in modo non grave, il conducente della Punto, un uomo di 49 anni, che è stato trasportato all'ospedale di Quornier. Il Lesol, conducente della BMW, ha certamente in corso sulla dinamica. Sarancome e Sat darkness metallica. Parala adaptive e meravigliate per i palliare Walker, sono i dati, che vengalo bagnieri per i palliare per i palliare peggio. La Riva Rossa. owers querocire le mismo, la Riva Rossa di Magiafa, Grazie. Grazie.